Non c'è dubbio che la ripresa del mezzogiorno è quella che può consentire un livello di crescita dell'Italia intera superiore a quello che purtroppo ancora registriamo troppo basso. Il che significa investire molto sul capitale umano, sulle persone, investire molto su percorsi di formazione, di apprendimento sia nelle sedi formali come le università o le scuole superiori ma anche da fonti informali, intrecciare molto la formazione con il lavoro. Insomma, continue opportunità di apprendimento per tutte le persone e contemporaneamente io penso a un grande piano di investimenti pubblici perché purtroppo gli investimenti pubblici negli ultimi sette anni sono scesi del 40%. Al contrario, noi dovremo soprattutto nella prossima legislatura immaginare un piano straordinario di investimenti pubblici. Abbiamo bisogno di un volano di partenza che spezzi il clima di sfiducia che si è creato. Abbiamo bisogno di un volano di partenza che si è creato.